Il San Nicolò vince 2-0 contro la Civitanovese, l'ultima gara della stagione regolare e accede come terzo classificato agli spareggi play-off. L'obiettivo secondo posto è sfumato, ma quella dei Biagazzurri rimane una grande stagione. Gli uomini di Epifani chiudono la pratica nel primo tempo contro i marchigiani, arrivati al Bonolis con poche prospettive. Gara a senso unico fin dall'inizio, con il San Nicolò che dopo un giro di lancette ha la prima occasione da gol, sciupata da Moretti che si fa respingere il tiro da abusato. Un minuto dopo azione fotocopia con conclusione ravvicinata di Di Benedetto respinta dal portiere. I Biagazzurri premono, all'undicesimo ci prova a Bisegna con una staffilata dai 25 metri che finisce in out. E il preludio al gol che arriva un minuto dopo, al dodicesimo azione di Chiacchiarelli sulla destra che crossa al centro per Di Benedetto. La difesa respinge, ma Moretti è lesto ad infilare la sfera alle spalle di Busato. San Nicolò in vantaggio. La partita, dicevamo, è a senso unico. Il San Nicolò perviene al raddoppio al 26esimo con Chiacchiarelli che è lesto a raccogliere il cross di Capitano Petronio dalla parte opposta e ad infilare la rete con un destro preciso. San Nicolò è a caccia subito del terzo gol. Due minuti dopo ci prova Di Benedetto con una conclusione che finisce sul fondo. La Civitanovese si affaccia per la prima volta in area avversaria attorno alla mezz'ora con Speranza che finisce in out e poi con Fabri con una conclusione insidiosa sulla quale si fa trovare pronto Ciotti. I biancazzurri però sono sempre padroni del campo. Al 33esimo ci prova Moretti sulla corsia di sinistra il cui tiro però incrocia sul palo lungo. Al 40esimo ci prova Bisegna ma il tiro centrale è preda di Busato. Finisce qui il primo tempo. La musica non cambia nella ripresa con il San Nicolò che riparte subito alla ricerca del terzo gol. Al quarto azione Bisegna di Benedetto Chiacchiarelli ma quest'ultimo sciupa tutto con una conclusione a metà strada tra un tiro e un cross. Al tredicesimo altra occasione San Nicolò con azione concitata in area, punizione dal limite di Chiacchiarelli, schema per Bisegna il cui tiro è respinto dal compagno di squadra Mozzoni. Poi ci prova Chiacchiarelli ma Busato si fa trovare pronto. Tre minuti dopo ci prova il solito Moretti di testa. Il San Nicolò continua a spingere. Al 27esimo Chiacchiarelli si mangia il più facile dei gol ma sciupa tutto tirando sul portiere. Al 31esimo la punizione di Bisegna finisce di poco alto sopra la traversa. Al 35esimo altra conclusione di Chiacchiarelli tra i migliori in campo oggi deviata in angolo dalla cui battuta Bosi di testa mette in out. E ancora Bosi due minuti dopo a impegnare l'estremo difensore rosso-blu. Poi Moretti non è lesto ad approfittarne. Mentre al 41esimo la conclusione dell'altro neoentrato Fulvi finisce sul fondo. Due minuti dopo l'occasione più clamorosa con Bosi di testa che centra in pieno alla traversa e Mozzoni non ne approfitta sparando alto a due passi. Finisce qui la gara. Scattano i play-off per il San Nicolò che se la vedrà con la Bispesaro in gara unica presumibilmente lunedì 15 maggio in notturna. Per la Civita Novese l'ennesimo addio al massimo campionato direttantistico nazionale.